Sicuramente un gesto deplorevole, un gesto da condannare, un gesto però devo dire ad orologeria. Con questo non è che voglio dire chissà cosa io voglio significare. Dico che capita in un momento poco opportuno, quindi questi signori che stanno tentando o hanno tentato con questo gesto di far scadere la campagna elettorale su un terreno che ormai Gioia Tauro non appartiene più a Gioia Tauro, Gioia Tauro ormai è una città tranquilla, serena, almeno negli ultimi anni. Questi gesti sono da condannare sicuramente però sembrano accadere in dei momenti particolarmente delicati dove si deve andare a scegliere un governo per questa città e quindi fanno ancora riflettere, riflettere ancora di più. C'è qualcuno ancora che pensa di poter giocare su determinate situazioni. Io con questo non voglio dire che chissà chi è stato, però il motivo secondo me è chiaro, è limpido. C'è qualcuno che tenta di spostare l'attenzione anziché sui programmi, sui concetti, su quello che dobbiamo andare a fare su un altro terreno, un terreno che non ci appartiene, che questa città non vuole più, che non vuole sentire più. Quindi mi auguro che queste vicende si interrompano al più presto.